Un pubblico di ragazzi come attrice mi sprona a fare molto di più, cioè mi richiede un'energia e un'attenzione molto diversa rispetto al teatro per adulti e questo mi interessa molto, mi piace molto questa relazione diciamo. Comunque i bambini riescono a dare tutto, non si tengono niente, quindi è una cosa che ci dà tanto a noi.